Spacca in dende spacca in dundu sciacca tindalli Ande sacca in dine wacce in den berla Uuuuh Ande sacca in dine wacpe Racquetecce with the pee Che classe FAN Dabbers Ciao ragazzi Ciao a tutti Spero che vi state divertendo ovunque voi siate Per quanto Si è rimasto poco ormai Settembre arrivi Ma lo so Quest'ultimo vlog di fine estate Per spiegarvi un po' quello che succederà nelle prossime settimane Esattamente innanzitutto vogliamo ringraziare E dare il benvenuto ai nuovi iscritti Che sono diventati sempre di più in questi mesi Siamo diventati in maniera esponenziale Incredibuff 8000 abbiamo raggiunto 8000 iscritti Voi ci supportate sempre Infatti vi vogliamo ringraziare appunto Per quello che state facendo per noi Che è molto importante Ci state Forte per andare avanti Ehi E non dimentichiamo OH che è stato il primo video A raggiungere le 100.000 visualizzazioni Mamma mia Mamma Mamma mia Non l'abbiamo mai detto È incredibile Infatti è già quasi a 150.000 Cioè io non so per quale motivo Ma grazie ragazzi Tutti i video che noi pubblichiamo sul nostro canale Li prendiamo da altri animatori americani Quindi non siamo noi a Diciamo disegnare La Magari Magari Siamo noi a disegnare Delle cose così malate Però Noi ci mettiamo il doppiaggio Traduciamo i testi E non solo Molto spesso Dobbiamo togliere tutto l'audio E ricominciare da zero Quindi Metterci i suoni Le musiche Quindi è un lavoro abbastanza complesso Di fatti lui lo sa molto bene Comunque Scherzi a parte Il 4 settembre Ovvero Settimana prossima Ricominceremo con la Nuova programmazione Quindi Non perdetevi i prossimi video Ci saranno nuove serie Ci saranno continuazioni Chissà Sherlock Holmes I lama col cappello I nostri amati I lama col cappello Video random Magari su Pokemon Su anche Dragon Ball Forse abbiamo trovato anche qualcosa di carino Su Dragon Ball Dobbiamo chiedere ovviamente I diritti Certo Perché se no ci aprono La nooo E naturalmente non mancheranno le collaborazioni Con il nostro caro amato Ian Lloyd Esatto Infatti ce n'è già una In cantiere sul suo canale Quindi andate a vedere Che lui verso settembre Comincerà a pubblicare Questa nuova serie Yo raga Un'altra cosa che vogliamo ricordarvi Non è che abbiamo soltanto Il canale YouTube Abbiamo anche una pagina Facebook Che a settembre Si spera di riuscire a Rianimare In un certo senso Ma abbiamo anche La pagina Instagram Dove pubblichiamo molto spesso Anche delle foto abbastanza imbarazzanti Idiote Infatti abbiamo pubblicato Anche un video Per ringraziare Gli 8000 iscritti A nostro modo ovviamente E sono io Che Vabbè Lo scoprirete Ricordiamo anche di scriverci Nei commenti e sotto ogni video Se volete essere salutati Nel video successivo E con quale voce Ora saremo costretti A ridurre un pochino Le quantità Per una questione di tempo Perché se no Andremo a fare video Di 20 minuti Per salutare tutti Infatti Prenderemo in giro Soltanto voi iscritti Esatto Magari uno si trova Un video di 20 minuti Però in attacco Un minuto di doppiaggio È di 2 Un minuto Però saluteremo tutti Questo è sicuro Quindi voi continuate a scriverci Beh questo video termina qui Anche se è stato abbastanza breve Ma intenso Vogliamo aggiornarvi Su quello che succederà E già la settimana prossima Ci sarà un nuovo video Wow wow Rampante Wow 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 Si parte alla grande Magari scriveteci anche Nei commenti qui sotto Come sono andate le vostre vacanze Esattamente Così almeno noi sappiamo I nostri iscritti Dove sono stati Ovviamente non vi obblighiamo A noi ci fa piacere Comunque Ascoltare le vostre Stuar Yes Cioè storie Cosa che hai detto Stuar Stuar Saluti Ciao ragazzi Se il video vi è piaciuto Come al solito Mettete un bel pollicezzo Su e fateci sapere Qui sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Vi invitiamo inoltre A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Cliccando qui da qualche parte E a passare dalla nostra pagina Facebook Da Instagram A iscrivervi al canale Telegram E a guardare i video precedenti Se non l'avete ancora fatto Ciao Ciao E a guardare i video Aru Vì, vì, vì.